Adesso il povero Massimiliano Romeo tocca dopo Borghezio, quindi sarai sicuramente meno indipendentista, meno ufficiale. Intanto è sempre un onore parlare dopo Borghezio, ricordiamocelo, grande Mario, un saluto, secondo me, un grande applauso ancora, avrà i suoi modi, avrà i suoi termini, ma un Borghezio nella Lega se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Io ci tengo solo a sottolineare un fatto, intanto che sulla questione del referendum per l'abrogazione della legge Merlina, se Maroni ci dà l'ok, noi come gruppo regionale abbiamo già pronta la proposta di legge per fare sì che il Consiglio regionale della Lombardia chieda l'indizione di questo referendum. C'è la Costituzione italiana che consente a cinque regioni di poter fare la richiesta, quindi ci sarebbe questa possibilità. Tre regioni ci sono, ci dovrebbero essere, perché gli alleati del PDL e me su questi temi non so come la pensano, però insomma si potrebbe anche coinvolgere qualche altra regione. Noi brevemente come gruppo regionale abbiamo chiesto, abbiamo portato il nostro contributo al gruppo sulle politiche dell'Unione Europea, per rapportare quelle che sono le nostre proposte, molte delle quali sono state assolutamente accettate dalla Nola Turchia in Europa, dall'introduzione dei Dazi, tantissimi temi, la questione dell'euro che è stata ben dibattuta, ma mi ha fatto molto piacere che al tavolo ci fosse assolutamente l'unanimità sulla questione della tutela e la difesa delle radici cristiane, della padagna, dell'Europa e purtroppo è un tema sul quale ultimamente ho percepito insomma che non ci sia questa grande sottolineatura da parte del nostro movimento e questo un po' mi dispiace, nel senso che per me deve essere un tema da affrontare e da portare avanti in campagna elettorale, anche perché sinceramente ultimamente questa Europa che è arrivata ad idolatrare la moneta come unico vero Dio, alla fine addirittura ha parlato di, a considerare l'apice della civiltà sostanzialmente le pratiche come l'aborto, l'eugenetica, il controllo delle nascite come è successo in Cina, pensate voi addirittura 336 milioni di aborti con la politica del figlio unico, l'eutanasia, il matrimonio fra gli omosessuali, ma più in generale addirittura le differenze naturali fra i sessi, in alcuni paesi ma sta arrivando anche in Italia, in padagna, il discorso relativo al fatto che non si potrebbe più parlare di donna incinta ma di persona incinta, dove mamma e papà vengono sostituiti da genitore 1, genitore 2, genitore richiedente, altro genitore, io ho fatto la maglietta sinceramente chiamateci ancora papà perché noi di questa cultura schifosa che ci portano avanti non ne vogliamo sapere, ma anche perché io ve lo dico anche perché purtroppo questa politica, questa cultura che ormai è diffusa tantissimo alla fine che porta a eliminare le differenze, a furia di eliminare le differenze hanno cominciato dai confini, poi sono partiti con il discorso dei sessi, le religioni, a eliminare tutte queste differenze, l'individuo resta solo un individuo e questo purtroppo si contrappone, distrugge il senso di comunità che noi abbiamo sempre portato avanti, stanno distruggendo la nostra cultura e noi non ce ne rendiamo assolutamente conto perché tantissimi anche problemi, è giusto capirle queste cose, non mi interessano gli applausi, è giusto capire che tantissimi anche problemi che abbiamo all'interno, che hanno all'interno tutti i partiti ma che abbiamo anche noi relativi a questi litigi stupidi per delle cose futili, per delle beghe condominali, sono figlie di questo individualismo che sta pian pianino erodendo quello che è il nostro senso di comunità e se perdiamo il senso di comunità è inutile che veniamo ai congressi a parlare di padagna, di macro regione, di unione, di libertà perché alla fine non rimarrà nulla, quindi questo è un argomento troppo troppo importante e questo atteggiamento da parte di qualcuno, lo dico, di conformarsi a questa cultura pensando, facendo così, di prendere dei voti in più, io vi dico che se noi ci conformiamo perdiamo anche i voti che abbiamo, quindi cerchiamo di parlare la nostra lingua, quello che abbiamo sempre detto e abbiamo sempre sostenuto perché nella nostra tradizione e noi siamo sempre stati orgogliosi di difendere la nostra tradizione, nella tradizione della padagna, del nostro territorio il matrimonio tra gli omosessuali non è mai esistito, quindi difendiamo la tradizione e senza avere assolutamente paura. Questa deve essere la nostra guerra, non mi interessa la nostra battaglia deve essere questa, non ci interessa di quello che dicono gli altri, dobbiamo avere il coraggio e la forza di credere in noi stessi, in quelle che sono state le nostre radici, le nostre testimonianze, la nostra tradizione, la nostra cultura, il nostro patrimonio storico che purtroppo questa Europa ci sta distruggendo. Io mi auguro e spero che questo tema sia un tema da rilanciare fortemente in campagna elettorale perché l'abbiamo sentito un po' mancare nell'ultimo periodo. Grazie, buona padagna a tutti!